Benemino, allora, tra pochissimi giorni, non so la data precisa, scadono i primi 100 giorni dell'amministrazione Cassone Giuseppe. È chiaro che tu sei della minoranza, la minoranza difficilmente può dire che la maggioranza fa bene, ma comunque sei stato amministratore anche tu, sei stato assessore, sei consigliere comunale, sei consigliere provinciale. Dacci un tuo giudizio, chiaro che è di parte, ma il più possibile imparziale, su cosa ha fatto i primi 100 giorni l'amministrazione comunale? Bisogna tenere conto della fase di rodaggio di una nuova amministrazione che si insedia. Uomini di esperienza, nessun problema nel affermarlo, è un dato di fatto, però a mio avviso la percezione che ha il cittadino, che hanno le persone del nostro paese rispetto a questa giunta, è una percezione negativa, non dico estremamente negativa, ma abbastanza negativa sicuramente, per il semplice fatto che proprio perché è una percezione, le persone che domandano un appuntamento al sindaco non riescono a parlare perché comunque vengono rimandati, nel senso che lasciano il numero e poi devono essere richiamati e richiamati non sono, o in efficienza della segreteria o un sindaco che non vuole incontrare la gente, ma perlomeno si potrebbe in qualche modo rimandare queste persone nei confronti degli assessorati magari di riferimento del problema che viene esposto. Questi 100 giorni coincidono anche con la partenza del segretario comunale, un grave errore perché se si doveva cambiare lo si poteva fare dopo un mese. Io avevo anche consigliato a Giuseppe in tempi non sospetti che la prima cosa che doveva fare se vinceva lui o se vincevo io era quello di pensare di avere un segretario comunale che è la persona negli uffici più importante che un sindaco doveva avere, quindi se lui riteneva che non era questo che partirà quello deputato a essere segretario comunale futuro doveva pensarci prima. Dopo tre mesi arriva un nuovo segretario generale quando la fase di rodaggio magari è completa e si trova proprio nella disgraziata situazione di dover decidere dei progetti magari importanti senza avere la confidenza, l'esperienza oppure comunque la conoscenza del territorio che affronta. Un'altra cosa coincidono con i primi 100 giorni anche la scadenza della proroga del dirigente dei settori lavori pubblici, urbanistiche e l'edilizia privata. Questo è frutto di un braccio di ferro tra l'anima di Casson Giuseppe con l'Udc nei confronti dell'alleato ma anche concorrente Lucio Tiozzo e il suo PD. Qui vogliono due dirigenti diversi e questa battaglia e questo braccio di ferro ingessa l'ufficio dell'edilizia privata e non viene fatta la delibera del piano casa. Questo è un grave segno di mancanza di rispetto nei confronti di un'economia fragile e toccata dalla crisi. Oltre 200, forse ci avvicineremo anche a 300 pratiche ferme. Parlavo proprio in provincia che Chioggia, da quando è stata commissariata, non sono più arrivate neanche pratiche dell'urbanistica, il PAT, eccetera, ma non se ne parla neanche e quindi è una città che rimane indietro. Però bene o meno, permettimi, non voglio difendere l'amministrazione comunale, però se avesse vinto il centrodestra con il piano casa sarebbe riusciti a fare qualche cosa perché io so che comunque i comuni hanno il compito di deliberare ma comunque è una funzione del consiglio comunale. Quindi il mese di agosto se ci fosse stato il centrodestra avrebbe potuto deliberare? Sicuramente, sicuramente sì. Primo perché fin da subito sapevamo chi era il nostro segretario generale dopo averlo cercato bene, dopo avermi ascoltati di bravi, di comuni importanti. Avremmo sicuramente non fatto la proroga a nessun dirigente ma avremmo scelto il dirigente che secondo noi sarebbe stato più competente per la cosa. E terzo, avremmo ordinato di fare una delibera a quadro per salvare perlomeno tutte quelle pratiche già istruite e che mancano solo di firma che dopo la scadenza del 13 luglio del piano casa, che cadeva e si sapeva già da prima, potevano essere comunque istruite aspettando la delibera invece madre, quella da deliberare entro il 30 novembre per i centri storici, le zone vincolate, il risparmio energetico e una serie di opportunità dalla nuova legge. Queste cose non sono state fatte, tra l'altro anche nei primi 100 giorni il sindaco aveva dichiarato che avrebbe controllato i conti, avrebbe detto cosa aveva trovato, questo non è stato fatto, è stato fatto da noi dell'opposizione invece in consiglio comunale nei confronti di SST, dei problemi con la CTV, dei problemi con Veritas, noi ne abbiamo parlato dei conti ma il sindaco non ha risposto, si è attaccato a tutto quello che è la legislazione, la normativa, la costituzione, una serie di belle parole di massimi sistemi e di sesso degli angeli ma non di soluzioni o di strade per trovare le soluzioni, dei problemi che invece attraggli nella nostra città e ci sono. Terza cosa o quarta non ne ricordo è la macchina comunale, se parte il segretario generale viene cambiato, rimane non si sa o fanno un'altra proroga al dirigente e quanto ne consegue, la macchina comunale noi abbiamo saputo di campagna comunale che era la prima cosa in cui mettere mano, non è stato messo niente come freno a quei problemi che ha l'amministrazione comunale e ci troviamo oggi nelle condizioni forse peggiori di quelle che ha trovato magari il sindaco Casson del precedente sindaco Romano Tiozzo e tra l'altro in questi primi 100 giorni c'era l'estate, sono andati tutti in ferie, ci lamentano tutti, da un lato chi doveva fare le feste che non le ha fatte, dall'altro gli albergatori o chi ha degli esercizi ricettivi per l'eccessivo rumore, frastuono, fracasso, il caos della viabilità, insomma non è la pagella che noi attribuiamo a questa amministrazione, non può essere che insufficiente come giudizio rispetto al poco lavoro o niente lavoro che è stato o non è stato fatto in questi primi 100 giorni. Grazie mille a me. Ciao. Grazie. 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 Grazie.